Festa grande a Nocera inferiore per Assunta Abate Arzilla Nonnina, nata il 21 agosto 1922, che ha celebrato ieri con una grande festa ai suoi 100 anni, circondata dall'affetto dei suoi familiari e dai tanti sorrisi dei suoi 5 figli, coccolata dai suoi 10 nipoti e 11 pronipoti. Una giornata di festa tanto attesa da tutti, una grande torta e la presenza del sindaco della città Palo De Maio, che ha voluto essere presente per celebrare il secolo di nonna Assunta, entrata così e di fatto nel record dei centenari della città. Terza di sei figli, originaria di una famiglia umile da giovane, ha svolto diversi lavori, dall'impiego in una ditta edile alla contadina, all'operaia nelle storiche industrie conserviere del territorio. Negli anni 40 ha conosciuto l'amore della sua vita armando gli annelli, infermiere presso l'ospedale di Nocera Inferiore. Col passare degli anni nacque ero sei figli, che con dedizione Assunta fece crescere in una famiglia piena di amore. Si è sempre fatta a forza, attraverso le difficoltà della vita, come la perdita della prima figlia insieme alla nipote durante il tragico crollo di un palazzo durante il terremoto del 23 novembre 1980. Un evento che l'ha segnata profondamente, ma con amore e semplicità è riuscita ad andare avanti con la sua forza, che è stata d'ispirazione per la sua famiglia, fino a festeggiare ieri l'importante traguardo con le 100 candeline.